Buongiorno a tutti, sono Lucia Cattani, faccio parte di Andea, associazione nazionale dermatite atopica. Ma oggi non voglio parlarvi della dermatite atopica, bensì di un progetto di aiuto psicologico che si chiama Liberi di Respirare. Il SIMP, che è la società italiana medicina psicosomatica, mette a disposizione gratuita di chiunque ne faccia richiesta un pool di esperti psicoterapeuti che ha il compito di aiutare a gestire le problematiche psicologiche derivanti da questa grave pandemia. Quindi gestione della rabbia, dello stress, della paura e dell'insonnia e tutte quelle problematiche che sono legate al lockdown e comunque a questo periodo molto problematico e difficile. Vengono fissati dai due ai quattro colloqui individuali online, proprio con l'idea di dare una mano alle persone a superare queste difficoltà psicologiche. Il nostro sogno è quello di estendere questo progetto quanto più sia possibile per riuscire ad aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno, ma per farciò abbiamo bisogno di una piccola mano e pertanto invitiamo chiunque lo voglia a dare il suo contributo. Bastano veramente pochi euro, anche soltanto 5 euro per fare la differenza. E allora vi chiediamo aiutateci veramente ad aiutare. Un piccolo contributo può veramente portare una mano a chi ne ha bisogno.